Oggi inizia il nostro viaggio di ritorno in Argentina. Abbiamo capito che è il momento di continuare la nostra lotta. Vogliamo ricordare i compagni caduti nella lotta rivoluzionaria. Compagno Marcos. Presente! Compagno Pedro, la tua arma e il caricatore è pieno. Voglio presentarvi il vostro nuovo compagno di classe, Ernesto. Si è appena trasferito qui da noi. Ieri ti ho vista. Sei molto brava. Io sono Maria. Sì, lo so. Come hai capito che papà ti piaceva? Giustizia popolare. Ti piace una tua compagna? No. Guarda che l'ammazzo, signorina. Nonna! I ragazzi stanno benissimo, conducono una vita normale. A te sembra normale che il bambino abbia il nome di chissà chi? Che festeggi il compleanno di chissà chi? Dovete andarteli. Stanno ammazzando la gente. Cristina! Che è successo? Ce ne andiamo per qualche giorno, per sicurezza. Perché? Maria. Con chi stavi parlando? Con Maria, la mia fidanzata. Cosa volete che faccia qui? Nasconditi! 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 Nasconditi!